salve ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della serie che ancora non ha un nome vi lascio qui sopra in alto a destra un sondaggio per scegliere se volete scegliere con quello all'allimamento dovremmo iniziare comunque oggi come da copertina andremo ad arare in il campo che abbiamo attrabbiato l'altra volta e raccogliere la paglia comunque adesso facciamo un primo acquisto compriamo un carrellone che sarà nella sezione carrelloni l'ho messo come mod poi ecco ecco compriamo il piedi per eccolo qua per la carrellone compra a 8000 euro questo ragazzi ci serve per portare il il cingolato al campo ok ma intanto facciamo un'altra cosa questo lo vediamo dopo intanto andiamo a raccogliere la paglia dov'è il nostro tra b eccolo qua scusate per il lag ragazzi ma è anche la mappa che pesa un po' eh perché sull'altra mappa sempre di black sheep modino nonostri problemi diamo questo raccogliere la paglia al campo ok andiamo no ok hai freni un po' un po' lì chiesto ok adesso ragazzi io raccolgo la paglia e ci vediamo a dopo eccoci qui ragazzi abbiamo raccolto tutta la paglia adesso la scarichiamo qua devo assolutamente ragazzi aggiungere quella mod che riduce un po' i cumuli perché sono 9000 litri e questi qua davanti guarda 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 parcheggiamo qua il il adesso ragazzi andiamo preferiamo tutti i mezzi e e e andiamo ad andare in collina quindi col cingolato a provare del cingolato ragazzi ehm chi chi se chi vedrà chi se ne intende ops sa consigliarmi magari qualche erpice qualche attrezzo da attaccare dietro perché io ho cingolati ragazzi non lì non lì perché non si spiega perchè non si spiega io ok ok andiamo a prendere il cingolato ok 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 ragazzi ok andiamo accendiamo i lampeggianti e andiamo qui adesso ragazzi io preparo tutto e ci vediamo già in campo così non vi faccio perdere tempo ok eccoci qua ragazzi in campo adesso iniziamo la rattura e farò vedere un andato e un ritorno e poi lo faccio io afframmere al campo ok 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 adesso vivo qui ma che si ah ecco ops scusate ragazzi no ok andiamo si ora così giusto con cingolato e ragazzi dovete dirmelo voi perchè io cingolati non mi ho mai visto ha potenza da vendere qualsiasi 20 ci guardate a un trivomere dietro malo traina come se fosse burro ops ok oppure ok no se solpo no ops oops ah no no oops 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 ok andiamo ma stara si ok forse quattolici all'ora è un po' esagerare però perchè c'è di qui ok quindi ragazzi adesso io finisco tirare il campo ci vediamo quando ho finito eccoci qui ragazzi ho finito stiamo facendo l'ultima passata per finire il campo qua purtroppo ragazzi come tocca lo so che non si farebbe però mi tocca andare dentro al terreno già seminato se fai una cosa già nella realtà mi sa che però essendo farming dai ragazzi concedete quindi anche adesso finiamo qua porto la ok ok quindi anche per quindi anche per questa puntata è tutto adesso noi portiamo il ragazzi mi sa che l'aratro ha qualche problema eh vorrei quindi quindi anche per questa puntata è tutto noi ci vediamo al prossimo